Ciao miei cari spettatori, benvenuti sul mio canale. Sono qui con un video fantastico. Oggi vi presentiamo il nuovissimo video di Enjin Akurek e Tagba Buyukustun. Enjin Akurek ha ammesso di essere stato in una situazione di stallo emotivo dopo la rottura. Non sopporto Tagba. Un'affermazione molto inquietante. Il punto in cui la fattoria rivela la complessità dell'amore. Silent Scream di Tuba Buyukustun. La decisione di lasciarsi e il silenzio dietro di essa. Tuba Buyukustun è rimasta in silenzio dopo la decisione di separarsi. Ma secondo le informazioni ottenute dalla cerchia comune della coppia, sembra anche che i due abbiano un legame emotivo. La sua vocalità mostra le tracce profonde dell'amore. Il volto amaro dell'amore, le lacrime di Enjin Akurek e Tagba Buyukustun, anche se l'amore di Enjin Akurek e Tagba Buyukustun ha mostrato il suo volto amaro, non c'erano più lacrime. Le difficoltà vissute dopo la decisione della coppia di separarsi si trasformano in una storia emozionante e drammatica. Il mio amore da Enjium e Tagba Buyukustun. Qual è la verità che non possono rimanere gialli? La maledizione dietro la separazione della coppia è piena del fatto che Enjin Akurek e Tagba Buyukustun non riescono a sopportarsi a vicenda. È diventata una questione di curiosità quale sia questa verità. Il mondo della rivista continua la sua ricerca per svelare i segreti dell'amore per la fattoria. Il vicolo cieco dell'amore, l'impronta di Tagba Buyukustun, è un punto nel cuore di Enjin Akurek. Lo stato emotivo di Enjin Akurek è pieno delle tracce di Tagba Buyukustun. Le cicatrici sul cuore di Akurek mostrano l'entità del dolore dopo la rottura. Enjin Akurek ha ammesso che non avrebbe mai più potuto aprire il suo cuore a nessuno. Grazie a tutti.